La legge va rispettata, se uno ti chiede i documenti bisogna darglieli, se no è un'offesa alla forza pubblica direi. Se un'autorità richiede il documento, il documento va mostrato, senza avere comportamenti ostili, semplicemente bisogna fare quello che viene chiesto, ovvero mostrare i documenti. Secondo te è esagerato il poliziotto? Secondo me no, per il semplice fatto che allora a quel punto il poliziotto che cosa deve fare? E dire no, allora non mi mostri il documento, vada pure via. Rispetto dell'autorità, i vicentini sembrano concordare sull'operato dell'agente che lunedì per bloccare un giovane 21 anni di origine cubane che, con gli amici in piazza Castello, si era opposto ripetutamente alla richiesta di mostrare i documenti, per bloccarlo lo ha preso per il collo. Uno ha condotto una presa ora sotto indagine interna della questura e se l'agente può avere esagerato resta l'osservanza della norma. Il poliziotto, preso dal momento, non saprei, dall'enfasi, dall'essere ripreso, il nervosismo e quant'altro, di certo poteva evitare di pigliarlo per il collo. Per i ragazzi, nel momento in cui una forza dell'ordine, un uomo indivisa, ti chiede di farti riconoscere i documenti e quant'altro, non puoi esimerti dal mostrarli. A maggior ragione se te non stai facendo nulla. Intanto a Roma Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare al ministro Lamorgese sulla vicenda per verificare se siano stati violati i diritti difensivi della gente, vista l'anticipazione fatta dal capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, di una futura sanzione disciplinare. Adesso c'è razzismo al contrario. La polizia ha paura, secondo me, tante volte è il nostro unico baluardo che c'è di difesa. Io se sono ora mi giro dall'altra parte, a questo punto rischiano la vita per niente. Intanto il questore di Vicenza, Antonino Messineo, tiene a precisare. C'è stata una situazione che si è protratta forse molto di più di quello che si vede nel frammento di immagini che girano sui social e ce ne sono altri che sono molto più lunghi e dove si vede che la situazione si è protratta nel tempo. Il caso di Piazza Castello però sembra far emergere una situazione di disagio da parte di quei gruppi di giovani di colore che si sentirebbero nel mirino delle forze dell'ordine. Episodi del genere, ci capita di viverli ogni giorno quando camminiamo per il centro e la polizia e le forze dell'ordine senza alcun motivo ci fermano, ci chiedono possiamo controllare i vostri zaini, mettete le mani in vista o voglio vedere cosa avete in tasche. Succede molto spesso e ci mette molto a disagio. Grazie. Grazie. Grazie.